Sono oltre 5.000 le tonnellate di rifiuti sequestrate dal comando provinciale di Monza della Guardia di Finanza a seguito di un'operazione in due vaste aree private a Seregno. La mappatura del territorio, anche attraverso l'utilizzo di droni, ha permesso di individuare due discariche abusive a cielo aperto con all'interno anche rifiuti speciali, pericolosi e non. Materiale ferroso derivante da lavori edili, centinaia di manufatti in cemento, rifiuti di impianti dismessi, ma anche un muletto, un'autovettura, due motocicli e biciclette. Trovate anche 600 metri cubi di rifiuti edili, mobilio, fusti contenenti, solventi e vernici, parti di auto, estintori e bombola GPL, nonché componenti di impianti termotecnici come scaldabagni, caldaie, sanitari, termosifoni, condizionatori e pianicottura a induzione elettrica. L'area, da oltre 2.200 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro, mentre sono tra le persone denunciate alla procura di Monza per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e abusivismo edilizio. Una di loro è ritenuta anche responsabile di arbitrare ed illegittima occupazione di terreno pubblico, avendo nel tempo illecitamente ampliato i confini della proprietà in un'area di pertinenza del comune di Seregno. Sono in corso le verifiche su eventuali contaminazioni ambientali delle aree.